La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di DFL classe 65 per il reato di incendio aggravato. In seguito ad attività info-investigativa, gli agenti della squadra mobile di Napoli, dei commissari di San Ferdinando e dei cumani hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza per ritenere che il destinatario del citato provvedimento restrittivo nella notte del 15 gennaio avrebbe appiccato il fuoco in Piazza Carolina a Napoli provocando la distruzione di tre autovetture e due motocicli rendendo necessario l'intervento di personale dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Poche ore dopo lo stesso soggetto avrebbe innescato un altro incendio in via Cisterna dell'Olio dove le fiamme rivampavano fino a coinvolgere e distruggere tre autovetture e dare cari vari danni in loco. Anche in questo caso solo l'intervento di personale dei vigili del fuoco ha impedito le fiamme di propagarsi e di causare danni ben più gravi. Le indagini condotte nell'immediatezza dei fatti, in particolar modo attraverso l'analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di individuare in DFL recidivo per reati della stessa specie quale è probabile autore degli attentati incendiali di cui si tratta. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile di Milano che hanno rintracciato il soggetto nei pressi della stazione ferroviaria di quel capoluogo. Sono altresì in corso ulteriori indagini finalizzate ad accelerare la gravità indiziaria a carico dell'indagato in merito ad analoghi episodi. Il provvedimento è eseguito da una misura cautelare disposta in serie di indagini preliminari a verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.